Stiamo a spenne una fracca, una fracca di soldi. Poi voglio vedere al 30 giugno chi saremo costretti a cedere per ripianare i bilanci. Ma detto questo, ragazzi miei, ciao, this is Gabon, bello a tutti da me. Paul Lopez è il nuovo portiere titolare della Roma per la prossima stagione. Prima di continuare vi invito a scaricare dal link in descrizione OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Gratuita sia per iOS e sia per Android. Andiamo a parlare di cifre perché, ripeto ragazzi, stiamo parlando di cifre veramente molto molto importanti. Innanzitutto Transfer Market lo valuta 20 milioni di euro. Quindi io non ho capito perché la Roma, tutti quelli che la Roma prende, che Transfer Market li valuta una cifra, la Roma minimo li paga 10 milioni di euro in più. Io sta cosa non l'ho capita. Er Napoli prende Manolas, vabbè c'è la clausola, 34 milioni, vai a guardare, vale 45. Ma a parte questo, Paolo Lopez sicuramente è un portiere sembrerebbe essere affidabile perché poi dal momento in cui passa da una squadra e arriva alla Roma, la sindrome di Goico Ecea potrebbe colpire veramente chiunque. Quindi, Zonzi è un nuovo giocatore della Roma, godiamo a Spruzzo, te qua e della pepepepepepepepepepe a Siviglia, vince l'Europa League, se strippla la gente arriva a Roma e diventa praticamente un attacca a panni. Ecco, quindi una grattata di palle e parliamo del portiere. È giovane, è sicuramente giovane, è un classe 1994-24enne, dotato di una personalità veramente forte, tant'è che in una partita col Siviglia, dirigenti e giocatori del Siviglia lo definirono il provocatore, perché praticamente fece spelle un giocatore del Siviglia e fece vincere una partita proprio al Betis. Ma comunque sia, sicuramente è abile nelle uscite, nelle uscite soprattutto basse, e credo che sia il suo cavallo di battaglia, è un giocatore molto abile anche con i piedi, particolarmente alto, mi pare che sia 1,90, dotato anche di un ottimo posizionamento, insomma, la prospettiva è quella sicuramente di un buon portiere. Ma come stavo dicendo poc'anzi, ragazzi miei, vale 20 milioni di euro, fatemi togliere la sonneria, che tanto mentre registro mi parte sempre qualche chiamata di quelle, ecco, manca a farla apposta, è arrivata una notifica proprio adesso. Sicuramente è un portiere, finora ha fatto vedere di essere un portiere affidabilissimo, poi una volta arrivato a Roma non so quello che potrebbe succedere. Dicevo, 20 milioni di euro, la formula del trasferimento qual è? Un botto dei soldi ragazzi, veramente un botto dei soldi, perché? Allora, al club andaluso andranno 20 milioni di euro, più la restituzione della percentuale sulla futura rivendita di Sanabria, valutata circa 7,5 milioni di euro. Quindi praticamente tu hai speso 27,5 milioni di euro per questo portiere, transfer market lo valuta 20, vabbè, diciamo che sto a dettagli, cifra che si avvicina ai 30 che avevano chiesto. Quindi siamo anche riusciti a tirare un minimo sul prezzo. Mo, con tutto il bene che voglio alla Roma, alla dirigenza e quant'altro, non me posso lamentare per un acquisto così oneroso, non me posso assolutamente lamentare. Diciamo che c'ho qualche dubbio perché poi, come ripeto, arrivati a prima del 30 giugno, sicuramente la Roma sarà costretta a fare qualche cessione importante per ripianare tutte le spese che sta facendo adesso. E Spinazzola, e stava di Condombia, e di Awara, e questo, mo ne arriverà qualcun altro, ragazzi, vabbè, vediamo quello che succederà. Magari la Roma riuscirà a cedere qualche altro esubero e riuscirà un po' a ripianare quella che è la situazione. Sarà migliore rispetto a Olsen, rispetto a Mirante, soprattutto che comunque nell'ultima parte, nella parte finale della stagione, ragazzi, non aveva sfigurato, sicuramente aveva fatto una figura dignitosa. Io sono d'accordo con la Roma, con la dirigenza della Roma, nel voler puntare su un giocatore di prospettiva giovane che possa garantirci da qui, almeno ad altre dieci stagioni, la porta completamente coperta. Poi ripeto, bisogna sempre vedere. È entrato anche nel giro della Nazionale, mi pare che sia il secondo portiere del Betis ad essere entrato nel giro delle Furie Rosse, ma quello sinceramente poco ci interessa. E soprattutto è un giocatore che è stato richiesto proprio da Fonseca, che vuole non solo un portiere abbi, i portieri, insomma, ragazzi, de sto calibro, sappiamo che comunque sono molto bravi con i piedi, no? Paolo Lopez lo ha dimostrato. È sicuramente un portiere non solo bravo tra i pali, ma anche in fase, il noier della situazione, no, magari non il noier della situazione, però comunque se c'è stata dove mi sta la palla da far lancio direttamente dalla porta, con le maglie o coi piedi, dovrebbe essere in grado di farlo e fu così che non azzecò un passaggio, manca a pagarlo oro. Quindi, il carissimo Paolo Lopez, ovviamente nazionalità spagnola, abbono coi piedi quello, stavo dicendo, nazionalità spagnola, è sinistro, portieri sinistri, tira le punizioni, c'è fai quando sotto l'incrocio? Non ci serve, per quello diciamo che dobbiamo correre ai ripari, è 1,89, non è 1,90, vabbè, per il centimetro, quel centimetro non lo so, sarà decisivo per non parare il calcio di rigore in finale di Champions League che non ci stiamo, in finale d'Europa League, vabbè, quante cazzate che sto sparando. Vorrei sapere da voi che cosa ne pensate, appunto nei commenti di questo acquisto, io avevo mosso, diciamo, una critica alla dirigenza della Roma, ma una critica no, che mi sono messo là, no, una critica diciamo, come a dire, ma perché non proviamo a prendere un perin che magari potrebbe anche costare meno, Transfer Market lo valuta 13, come minimo la Juve ne ho 30 a sto punto, perché tanto è così, quelli che prende la Roma sul Transfer Market valgono 10 milioni di euro, in quel caso no, a sto punto per Inna c'è due anni in più, vi dico che è meglio prendere un Paul Lopez, però se per esempio riuscivamo a strapparlo alla Juventus, visto che è ora tornato a Buffon, visto che ci hanno sceso di titolare, visto che se ne voleva andare, magari riuscivamo a prenderlo, chi lo sa, a 12-13 milioni di euro, non lo pagavi 30, 27 e rotti, andavi sicuramente a risparmiare qualcosa a bilancio, il che poi a fine anno, prima del 30 giugno, se traduce nel non dover magari vendere troppi giocatori, capito, perché risparmi 7-10 milioni da questo, 5 da quello, 7 da quell'altro, alla fine sono 30-40 milioni di euro in meno che tu devi andare a ripianare a bilancio entro il 30 giugno, è un mio semplicissimo parere personale, poi potete essere d'accordo o meno, sono anche d'accordo nel dire, dobbiamo fare degli investimenti anche per il futuro, questo è il 24enne, sta dimostrando comunque di essere un portiere importante, però arrivato a Roma bisogna vedere se riesce a mantenere quella personalità, quella cattiveria, dice che è uno che in campo si fa sentire parecchio, quindi un portiere che parla magari non alla Soviero, perché se no ricorderemo tutti quello che disse Soviero, insomma a quei livelli è meglio di no, perché potrebbe creare problemi diciamo all'interno dell'organico, del gruppo, però insomma dovesse essere un portiere che si fa sentire, a me può solo che far piacere, anche perché abbiamo perso magari un giocatore come Manolas e come De Rossi che in campo si facevano sentire e non poco, però certo questo appena è arrivato comincia a dire Lasciate un bel mi piace, su questo video arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, commentate col vostro parere, condividete il video se vi va, iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto, io vi ricordo di scaricare OneFootball dal link in descrizione, applicazione gratuita di riferimento per seguire tutto il mondo del calcio sia per iOS sia per Android, seguitemi anche su Instagram e Telegram tutto in descrizione, almeno mi seguite anche sui profili social, su Instagram vabbè affaracci di vita privata, e su Telegram vi invio le feed dei video, perché YouTube, cioè quando pubblico un video ve lo metto su Telegram in modo tale che se YouTube non vi manda la feed scoprirete sempre i miei nuovi contenuti, ma vi ricordo di attivare la campanella, perché con la campanella a fianco al tasto iscriviti dovrebbe arrivarvi teoricamente sempre la feed. A voi la parola nei commenti, sondaggio in alto a destra, Paolo Lopez secondo voi è il giusto rinforzo per la Roma? Ma non l'abbiamo pagato tanto secondo voi? Secondo me sì, l'abbiamo pagato veramente una cifra troppo, troppo in po', non lo so, non lo so, fatemi sapere voi, perché ripeto, io con queste situazioni di calciomercato, con questi valori di mercato ce sto a capire veramente ben poco, perché comunque ci sta scritto 20, perché amignone vanno 30, vabbè giovane, è di prospettiva, affan cuore, alla prossima con un nuovo video che è meglio, va, ciao!